bombastic sai dai signora martina di minti ma io quando l mi viene qua io non so cosa devo fare dovresti ucciderlo dovresti avanzarlo subito dovresti prendere l'abitudine di ucciderlo subito perché bello per trovare tre pistole per me per la mia mira ma c'è chi dava il pistola la pistola il pistolone in questi ma ma mia che notizia che vada da una gira le dietro irale dietro è morta ottimo il bunker solido ira scappa tutto il tempo so che faccio la casa ma ti prego non entrare a caso detto pensavo fosse tipo se vuoi la catana sono due sono in due troppo forte questa è la skin di gabri la skin signori merito della skin andiamo un po mitico vai ma adesso andiamo sopra l'isola raga ila che sto dicendo mi sento fortissimo in questo momento azzo raga c'è il pompa oro per una chiama io lo prenderei bossi in voi vado no non puoi veramente aver fatto ila guarda cosa ho fatto ila guarda cosa ho fatto ila dai beh è arrivata prima lei non potevi rubagliolo non era giusto vado a mettermi in castigo nell'angolino a piangere che pompa c'hai? un bellissimo pompa quale? sarà grigio ila bianco lascia cosa vuoi? ancora? ma ti ho dato tutti i colpi ma cosa vuoi? cosa vuoi? vabbene andiamo 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 ma no scherzando scherzando o schizzando? la nostra arriva ma no allora andiamo da questi vai la vai la eh roba è sopra si lutta bebe bebe beber eh sempre due guarda qua eh perché vogliono il boss hai capito molto buonasera qua dentro in this house come va deve fare ti giuro io mi sparo andare dietro raga mi sa distrutto raga guarda glielo giuro distrutto ok infatti vieni qua amore mio ti scoppi è il culo come se fossi la mia bambina perché state penetrando la mia zona? non capisco ma capisco tutto bene eh? ecco beh sì 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 se lo penso anch'io anch'io ma c'è uno qua raga sento passi sto andando con martica vabbè grazie ok 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 no 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 vabbè no abisami eh non te lo ricordi cosa sa Giorgia qua te mercato fu bici dietro ira ira pompa vitico ti ha pompa oro hai la cadana sì sì tutto quando ho la nostra skin quando ho la nostra skin è solo un demon è la potenza del gabri si lo userò nel primo turno che faccio sta skin vogliamo guardare no andiamo via no 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 la r mitico dobbiamo correre via il pompa vieni qua ah ma vai no andiamo sopra 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 al pingamo ok mitra le vande ti compro ti compro la mitra viola poi andiamo con la spada ok io non ho la spada ma stanno picconando o era ira io io picconavo non posso non posso perché non la spada o l'aggresso su questo io ho visto già quanto un altro quanto un altro quanto un altro qua pompa pop a mitico smg oro katana tutto le cose questa cosa prende giù giù le porto faccio le sprescine pure non c'è nessuno non serve non serve venire no 1 e si è buttato giù ed è qua di sotto ma io ne sentivo uno qua sotto è bianco l'hai fatto tantissima raga è bianchissima dall'oggi ho fatto 30 a bianco non so se è sicurato non lo vedo però tanto vuole andare in sezzo 40 io ho caccato no siamo a 10 questa zona qua occhio quello la sopra guardatelo lì ma non piccarlo quello sport ma neri mitico ti rompe il culo risale poi la no 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 aspettiamo aspettiamo loro no allora quello che dici tu dovrebbe essere forse dentro di non caccato in più ci potremmo quasi crack staccato con le codine ok morto mi ora e le ho fatto 150 la serata non vuole prendere le robe mi sa cercato questo il la vendita la coroncina 40 l'altro esce uno da qui caccato il fagiolino knock vabbè distrutto mamma mia che peti 3000 danni con 13 kill buonasera buonasera buonasera